La Fiera dei Desideri Tanti gli espositori che scelgono questa vetrina per presentare i propri prodotti e offrire consulenze. All'interno dei padiglioni, spazio d'abbigliamento, accessori, intimo di lusso, moda capelli e trattamenti estetici. Manche bomboniere, liste nozze, oreficeria, argenteria e artigianato artistico. Non mancheranno le proposte per il ricevimento di nozze naturalmente, con le migliori location tra ristoranti, agriturismi, ville e castelli, così come quelle per il banketing e catering. E poi ancora, spazio ai consigli di fotografi professionisti per immortalare il giorno più bello o a quelli dei tour operator per scegliere la destinazione più adatta al viaggio di nozze. Infine, uno sguardo anche alla casa, arredamento e complementi d'arredo, oggettistica, tappezzeria e biancheria. Nei tre giorni, previsti intrattenimento, musica, ospiti e tanti momenti dedicati alle degustazioni. Il programma dettagliato è disponibile al sito www.umbriasposi.it On the radio, telling you we're having a party Yeah, yeah Grazie Grazie Grazie